Da un lato l'arte antica e dall'altro quella contemporanea in un confronto ravvicinato. L'opera di Piero della Francesca e la videoarte di Bilviola infatti si incontrano ad Arezzo, trovandosi così fisicamente vicine seppur temporalmente lontane. Quando Bilviola è venuto a Firenze dal 1974 al 1976 ha percepito come estremamente nuovi e innovativi i cinchi di affreschi, trattando, si le considera quasi, come delle opere immersive, quindi assolutamente contemporanee, in cui si può entrare e con cui il visitatore interagisce. E questo rapporto è dunque poi particolare con Piero della Francesca, dato la sua attenzione ad alcuni temi, come il tema della resurrezione, il tema dell'ascensione, che ripropone spesso nelle sue opere. Ed è attorno a questi due artisti che si è articolata la conferenza La leggenda della vera croce e il suggestivo rapporto con Bilviola alla Galleria Ivan Bruschi, che ospita la prima esposizione italiana della videoinstallazione Tristan Saschenzio, ponendola così a pochi metri di distanza dalla leggenda della vera croce, il ciclo di affreschi Pierfrancescani. Bilviola viene ad Arezzo, rimane incantato fin da giovane di fronte agli affreschi di Piero, è ritornato quest'anno prima dell'installazione che viene ospitata dalla Fondazione Bruschi e quindi è una vicinanza di scelta precisa da parte dell'artista, ma poi c'è proprio un elemento formale importante che è il recupero del rinascimento e infatti il sottotitolo della mostra è rinascimento elettronico e quindi è la videoarte che si impone attraverso lo studio dei grandi maestri.